Via Crucis Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amén. 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 adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Allora i soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi inginocchiandosi davanti a lui lo deridevano, salve re dei giudei. Sputandogli addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crucificherlo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti bene diciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Eppure Egli si è caricato dalle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Simeone li benedisse, e a Maria sua madre disse, ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione dei molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto degli uomini, uomo dei dolori che ben conosci il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. Ha spezzato i miei denti con la ghiaia, mi ha steso dalla polvere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Ottava stazione Gesù incontra alcune donne piangenti Ti adoriamo, Cristo, e ti bene diciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù, voltandosi verso di loro, disse Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà Beate gli stierili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti Cadete su di noi e alle colline copriteci perché se si tratta così il legno verde che avverrà del legno secco. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Amen Santa Madre dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor Nona stazione Gesù cade per la terza volta Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo Ebbene per l'uomo portare un gioco nella sua giovinezza Sieda costui solitario e resti in silenzio poiché egli glielo impone Ponga nella polvere la bocca Forse c'è ancora speranza Porga a chi lo percuote la sua guancia Si sazi di umiliazioni Poiché il Signore non rispinge per sempre Ma se affligge Avrà anche pietà Secondo il suo grande amore Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga al tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi rimettiamo i nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Amen Santa Madre dei voi fate Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuor Decima stazione Gesù viene spogliato Ti adoriamo Cristo E ti benediciamo Perché con la tua Santa Croce Hai redento il mondo Giunti al luogo Detto Golgota Che significa Luogo del cranio Gli diedero da bere vino Mescolato con fiele Egli lo soggiò Ma non ne volle bere Dopo averlo crucifisso Si divisero le sue vesti Tirandole a sorte Poi seduti Gli facevano la guardia Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga al tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi Il nostro pane quotidiano E rimette a noi I nostri debiti Come noi rimettiamo I nostri debitori E non ci indurre In tentazione Ma liberaci dal male Amen Santa madre Devo e fate Che le piaghe del Signore Siano impresse Nel mio cuor Undicesima stazione Gesù Inchiodato alla croce Ti adoriamo Cristo E ti benediciamo Perché con la tua santa croce Hai redento il mondo Quelli che passavano di lì Lo insultavano Scuotendo il capo E dicendo Tu che distruggi il tempio E in tre giorni Lo ricostruisci Salva te stesso Se tu sei figlio di Dio Scendi dalla croce Così anche i capi dei sacerdoti Gli scrive gli anziani Facendosi beffe su di lui Dicevano Ha salvato altri E non può salvare se stesso È il re di Israele Scenda ora dalla croce E crederemo in lui Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga al tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi rimettiamo i nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Amen Amen Santa madre dei voi fate Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuor Dodicesima stazione Gesù muore dopo tre ore di agonia Ti adoriamo Cristo E ti bene diciamo Perché con la tua santa croce Hai redento il mondo A mezzogiorno Si fece buio su tutta la terra Fino alle tre del pomeriggio Verso le tre Gesù gridò a gran voce E lì E lì Lema sabachthani Che significa Dio mio Dio mio Perché mi hai abbandonato Ma Gesù Di nuovo gridò a gran voce Ed emise lo spirito Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga al tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi rimettiamo i nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Amén Santa madre dei voi fate Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuor Tredicesima stazione Gesù deposto dalla croce Ti adoriamo Cristo E ti bene diciamo Perché con la tua santa croce Hai redento il mondo Il centurione E quelli che con lui facevano la guardia di Gesù Alla vista del terremoto E di quello che succedeva Furono presi da grande timore E dicevano Davvero costui era figlio di Dio Vi erano là anche molte donne Che osservavano da lontano Essi avevano seguito Gesù dalla Galilea Per servirlo Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga al tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimette a noi i nostri debiti Come noi rimettiamo i nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Amen Santa Madre dei voi fate Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuor Quattordicesima stazione Gesù viene deposto nel sepolcro Ti adoriamo Cristo E ti bene diciamo Perché con la tua santa croce Hai redento il mondo Giuseppe prese il corpo Lo avvolse nel lenzolo pulito E lo depose nel suo sepolcro nuovo Che si era fatto scavare nella roccia Rotolata poi una grande pietra All'entrata del sepolcro Se ne andò Lì Sedute di fronte alla tomba C'erano Maria di Magdala E l'altra Maria Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga al tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimette a noi i nostri debiti Come noi rimettiamo i nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Amen Santa madre dei voi fate Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuor Preghiamo Sopra il popolo Che ha commemorato la morte di Cristo tuo figlio Nella speranza di risorgere con lui Scenda Signore All'abbondanza dei tuoi doni Venga il perdono e la consolazione Si accresca la fede E l'intima certezza Della redenzione eterna Per Cristo nostro Signore Amen Per le intenzioni del Papa Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga al tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi rimettiamo i nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre Al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio Ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen E del Figlio